ciao a tutti amici di multiplayer.it benvenuti ad una nuova sala giochi oggi in compagnia del remake di shadow of the colossus in questo momento non sto giocando perché come vedete manca qualcosa all'interno del gioco tipo il protagonista agro in questo momento è scosso e sta galoppando da solo perché siamo nella schermata nella schermata del menu insomma quando lasciate il menu fermo allora direi nuova no continua continua 12 colossi sconfitti dicevo se lasciate il menu fermo parte questa animazione di agro che corre da solo attorno al santuario mentre wonder dorme qui abbiamo un filmatino nel frattempo allora come avete visto sono arrivata al dodicesimo colosso e quindi questo vuol dire che non ho ancora finito il gioco e che devo finire di scrivere la recensione c'è sempre questo e questa discrepanza temporale tra voi che guardate la sala giochi il giorno in cui la recensione esce e io che filmo la sala giochi che non ho ancora scritto la recensione c'è sempre questa appunto discrepanza molto divertente qua abbiamo dei problemi di tearing durante il filmato perché l'ho lasciato in modalità performance adesso dopo vi spiego tutto e però questo il fatto che io non abbia ancora finito di scrivere completamente la recensione non mi fermerà dal condividere con voi alcuni elementi che mi hanno che mi hanno appunto convinto di questo remake e altri invece che mi lasciano un po perplessa allora visto che abbiamo visto quel problemino quella scalettatura dell'immagine durante il filmato facciamo un breve inciso sulla questione grafica sulla quale torneremo però dopo allora trovate tutte le informazioni per quanto riguarda l'aspetto tecnico del gioco nel nostro video confronto che dovrebbe essere già uscito da svariati giorni rispetto al giorno in cui guarderete questo questa sala giochi qua c'è dormin che ci spiega dove dobbiamo andare il prossimo nemico è cos'è prossimo nemico è immerse terre deserti che grande scia percorrere no 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 io lo odio questo colosso allora io ho giocato l'ultima volta shadow of the colossus che avevo 16 anni ok non ho giocato al remake al scusate la remastered per playstation 3 quindi per me è praticamente un gioco quasi nuovo shadow of the colossus per playstation 4 perché non mi ricordo assolutamente una ceppa però quel colosso porco giuda me lo ricordo perché mi ricordo che avevo fatto una fatica che non era difficile da capire come fare ma era drammaticamente difficile proprio da da fisicamente da da combattere allora io mandare nel deserto quindi immagino a destra sì 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 dicevo allora c'è un video confronto breve un breve inciso sull'aspetto tecnico allora vabbè qua c'è tutto il menu trovate tutte le descrizioni del del menu di gioco all'interno della recensione quello che volevo farvi vedere la impostazione schermo perché qua vedete un hdr è spento adesso vi spiego per quale motivo è spento e poi una modalità grafica performance contro cinema adesso vi faccio vedere un po cinema un po performance molto semplicemente la modalità cinema predilige la risoluzione al frame rate quindi avete delle immagini con una nitidezza un dettaglio è una risoluzione soprattutto fino a 4k con un sacco di effetti di luce di dettagli eccetera ma fissi a 30 frame mentre la versione performance pulisce molto l'immagine e spinge tutto a 60 spero prima di aver detto 30 una da cinema 30 la performance è a 60 ora anche se non avete uno schermo 4k troverete comunque delle delle sostanziali migliorie e differenze un po per il frame rate che si vede a colpo d'occhio allora io direi che forse il bosco però me lo faccio a piedi perché tu ti incastri sempre tra gli alberi agro c'è il cervello di una cocorita però agro vieni agro e dicevo beneficerete comunque di alcuni effetti particolari ecco forse ha senso farvi vedere la modalità cinema qui perché comunque anche se magari non arrivate a un livello di dettaglio come 4k a parte che lo scaling in negativo diciamo aiuta sempre un po e poi perché tutti quelli che sono gli effetti di luce gli effetti di particelle eccetera comunque vengono mantenute anche delle risoluzioni un po più un po più bassine vedete nel bosco si nota bene la luce che oh lucertola ta ferma lì ta ferma lì beccata beccata voglio la tua coda 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 oppla e come vedete questa cosa c'era questi questi piccoli collezionabili c'erano già per playstation 2 sono stati mantenuti anche per playstation 4 quindi dicevo appunto gli effetti particellari gli effetti di luce eccetera rimangono anche delle risoluzioni non propriamente 4k anche perchè e questo no no salvataggio manuale cosa ho fatto cosa no 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 ok anche perché in questo momento tenete conto che io sto acquisendo il gioco con una scheda di acquisizione grafica nel gato 1080p 60 frame che significa che quello è il tetto massimo al quale io posso arrivare. E di qua la strada, non mi ricordo, mi sono persa. Cerchiamo della luce così poi... No, mi sa che da qui... Sbagliato o è giusto? Non mi ricordo. Qua non funziona, perfetto, ci siamo persi come degli allocchi, in mezzo al nulla. Qua c'è la luce però, questa è luce, questa è luce. Qua la spada funziona, no non funziona, stavo scherzando. E quindi in realtà quello che io vedo in modalità cinema mentre acquisisco il gioco non è la stessa cosa che io in realtà poi... No, è sbagliatissima la strada. Non è poi la stessa cosa che io vedo quando tolgo la scheda d'acquisizione perché ovviamente non passando il segnale attraverso l'elgato ma finendo direttamente sulla tv è diverso ed è il motivo per cui non posso abilitare il 4K perché la mia elgato non permette di abilitare il 4K. La differenza comunque l'avete vista, si nota al di là del, come si dice, al di là appunto del frame rate che si vede ad occhio. Io mi sono persa. Cioè è bello che ho detto scendo da cavallo perché così trovo la strada più velocemente che Agro si incastra in mezzo agli alberi. Ma meno male che sei scesa Giordana perché pensa se non scendevi. Qua c'è luce. Ok, dritti di qua, perfetto. Agro? Agro! E niente, cosa stavo dicendo? Ah sì, mi stavo spiegando questa piccola cosa del motivo per cui manca la possibilità di mostrare l'HDR in video. Cercherò in fase di recensione, magari facendo proprio delle catture direttamente dal Playstation, cioè utilizzando proprio il tasto share per intenderci, di farvi delle catture con e senza HDR per farvi vedere la differenza perché lì si nasconde una piccola magagna, una cosa che mi turba un po'. No, siamo di nuovo a un punto morto. Oddio, santo cielo. Persi nel bosco come capuceto rosso. Allora sarà di là. Ah, eccola lì, eccola lì. No, questo è di nuovo un dirupo, non è la strada, esatto. Eccola lì cosa, Giordana? Cosa? Mamma saura. Eh, qua c'è la strada. Agro. Si deve chiamarlo lui, non devi chiamarlo tu, Giordana. Siamo in vacanza? Guarda, 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 guarda come è lento. Guarda come è lento. Poi passa anche perfettamente in mezzo a un tronco, abbiamo questi forti problemi di compenetrazione del solido. Eh, vabbè. Vabbè che vi dico. Comunque. Allora, aspetti positivi di questo remake. Una cosa che apprezzo molto è stato il fatto che gli sviluppatori hanno mantenuto il gioco esattamente così com'è a livello di contenuti. Quando è stato annunciato il, appunto, l'uscita di questo remake c'è stata un sacco di gente che ha detto ah no, perché sarebbe bello visto che le fasi di esplorazioni sono un po' vuote se venissero aggiunti degli extra, degli accampamenti, delle missioni secondarie, collezionabili nuovi. No. No. È una cosa che io francamente non posso neanche sentire visto che comunque Shadow of the Colossus ha un fortissimo simbolismo in tutti gli elementi presenti all'interno del gioco e quindi sono molto contenta che abbiano lasciato l'esperienza completamente pura e invariata. E non è una cosa semplice perché quando si fa un remake bisogna comunque prendere un gioco che già di per sé è vecchio. Quindi parliamo di un titolo che al presente è sorpassato e Shadow of the Colossus per certi aspetti è un po' sorpassato. Quindi bisogna apportare delle modifiche senza comunque stravolgere il gioco perché la resa finale deve essere comunque quella del gioco originale. Allora, questo Colosso non era difficile da capire come fare tant'è che io ho inconsciamente tirato fuori l'arco perché sapevo già che dovevo colpirlo sotto la pancia perché me lo ricordavo. Il problema è salire sulle cazzo di ali mentre si è a cavallo di agro perché quella lì è una roba che proprio io non riesco a... No. No. Perché dico che Shadow of the Colossus è superato? Così facciamo anche un esempio del come effettivamente si... cioè del giusto, sbagliato del cosa toccare, cosa non toccare all'interno di un remake. Allora, un elemento superato di Shadow of the Colossus è l'interfaccia comandi perché l'interfaccia comandi per PlayStation 2 era veramente poco intuitiva e un po' fastidiosa. Questa modalità comunque... Bello, bel tir. Io non riesco a mirare mentre sono a cavallo. Cioè già ho fortissimi problemi. Poi lui si muove. La fatica. Ma perché? 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 Che problemi hai? Problemi ha questo gioco. E quindi ha un'interfaccia comandi... No vabbè ma fa veramente ridere questa cosa che non riesco a colpirlo. Ma perché? Non c'è senso ragazzi. Oh no vabbè per fortuna che ho le frecce infinite perché se no ho la difficoltà eh. E quindi appunto avevo un'interfaccia comandi poco intuitiva un po' superata e quindi il team di sviluppo ha deciso di renderla più semplice facendo un'operazione tra l'altro di accessibilità del gioco. Ipotesi ecco adesso arriva la parte difficile. Ipotesi quando è uscito Shadow of the Colossus ci avevate 5-6 anni? Abbastanza drammatica come cosa da processare nel mio cervello perché vuol dire che c'è gente che è nata nel 2000. Cosa un po' impossibile per la mia testa. Prendi prendila la scaglia eh bravo e adesso tirati su tirati su ma la fatica la fatica la fatica di vivere proprio dai 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 che lo buttiamo giù che rischio che rischio eccoci qua scusate ma nel frattempo il mio microfono ha deciso che aveva finito lo spazio per archiviare gli audio e quindi stavamo dicendo stavamo dicendo che stavamo uccidendo questo questo colosso e stavo anche dicendo che appunto i comandi sono una di quelle cose che hanno cambiato ma che hanno ritoccato ma appunto per fare un'operazione di accessibilità quindi abbiamo finito ah dobbiamo andare là dietro perché no 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 ooo resta aggrappato resta aggrappato resta aggrappato resta aggrappato resta aggrappato no 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 eccoci no no cos'è cos'è questa cosa no riapri subito riapri subito quelle scaglie riapri subito quella scaglia oh no 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 ma mi state dicendo che lo devo fare per ogni per ogni scaglia del dorso porca vacca che tecca no che pa zoppo no bravo eh ma stai sempre in mezzo alle alle balle aggro poi per forza che ti che ti a zoppi una cosa invece che concettualmente è un po' problematica in il shadow of the colossus che però non è stata cambiata dal team di sviluppo e per me questa è una cosa positiva ad esempio è la telecamera io non ho mai sopportato la 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 telecamera dei giochi di Weda in generale perché è una telecamera che vedete se io adesso per esempio guardo in alto e mollo la levetta la telecamera poi ritorna in posizione che è una cosa che a me dà parecchio fastidio mi piace invece la telecamera che quando gira gira insomma e rimane ah perché tu torni sotto sotto la sabbia e ti si ingrossano le sacche quindi io devo di nuovo fare questa cosa che peraltro non sono capace a fare perché no invece sì è tutto buono uno due però è appunto una parte una parte fondamentale del gameplay nonostante sia appunto una telecamera non convenzionale diciamo un po' problematica che però fa parte appunto del gameplay tant'è che se non ci fosse questa esigenza di telecamera non avrebbe nemmeno senso mettere il tasto il tasto per seguire i colossi è andata no è andata sì no non capisco sì adesso sì ok quindi abbiamo fatto tutte tre uno due tre sì stiamo un po' più indietro perché dobbiamo salire sulla groppa indietro ok agro dove vai ah no però le scaglie d'accesso sono sempre quelle anteriori non posteriori perché quelle sono troppo corte e quindi è una cosa che nonostante sia appunto poco convenzionale fa a parte un elemento costitutivo del gioco che quindi non è stata c'è proprio il cervello di una nocciolina e quindi appunto non è stata non è stata cambiata tra l'altro in Shadow of the Colossus è fastidiosa ma non così tanto come lo è ad esempio in The Last Guardian in The Last Guardian ci sono proprio dei problemi ci sono proprio dei problemi di telecamera potentissimi perché se l'avete giocato probabilmente sapete a cosa mi riferisco quindi c'è questa telecamera un po' difficile da gestire magari succede tira su le ali che così grazie difficile da gestire no 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 non cadere non cadere non cadere ok che rischio scusate concentrazione 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 ok appunto c'è questa telecamera fortemente problematica poi magari vi ritrovate in uno spazio angusto con Trico che è molto grosso e ha delle animazioni un po' ingombranti diciamo magari lui anche in un momento in cui non lo so è spaventato da da dei nemici eccetera eccetera quindi fate veramente fatica a gestire quel a gestire quel momento insomma allora noi spostiamoci verso la coda tanto lui deve tornare giù non è vero le scaglie si sono chiuse però io non voglio fare un salto gigante se ti abbassi di quota tipo per dire magari grazie esattamente io mi lascio andare qui che ruzzolone e quindi appunto questa della telecamera e dei comandi sono un esempio di come si può agire si può intervenire oppure no all'interno di un gioco al fine proprio di restituire il feedback tipico di quel gioco secondo me sulla questione ve lo faccio vedere attraverso dei filtri per farvi capire meglio secondo me sulla questione tecnica si sono un po' incartati quelli di Bluepoint perché io non trovo cioè è apprezzabile il fatto che il gioco offra tutta una serie di opzioni grafiche che si adattano alle vostre esigenze avete uno schermo 4k HDR ve lo giocate in modalità cinema ed è bellissimo avete uno schermo più piccolo o con delle prestazioni minori comunque avete a che fare con un gioco visivamente d'impatto volete sparare il frame a 60 sparate il frame a 60 però che cosa perdete in tutto questo secondo me si perde proprio parte del fascino del gioco dato dalla componente artistica ho aperto i filtri perché c'è ovviamente l'opzione di giocare il gioco con tutta una serie di filtri vedete io li passo e il gioco cambia appunto cambia cambiano i colori insomma un po' come i filtri di Instagram di qualsiasi altro social network il problema è che se guardate senza filtri secondo me la palette cromatica del gioco si avvicina molto è molto più simile a Silvestre e Smeraldo vedete che appunto c'è questa questa componente un po' verdastra che è tipica del gioco e che no togliamolo però filtro e che secondo me in tutta questa in tutta questa grande questo grande mischione di opzioni grafiche si è un po' persa e ce ne si rende proprio conto quando lo si gioca in HDR se voi poteste vedere la differenza tra il gioco in modalità cinema normale e con l'HDR abilitato con l'HDR vedrete quella che è la minchia lontanissimo quella che è la vera patina cromatica tipica del gioco che in tutte queste opzioni di performance grafiche secondo me si è persa ed è un peccato perché l'utilizzo della luce e del della luce e del colore nei giochi di Ueda è molto importante e queste migliorie grafiche un po' tradiscono il comparto artistico e per me è un po' un errore anche perché appunto le performance tecniche del titolo sono grande motivo di vanto pubblicitario per la sponsorizzazione del gioco avrei preferito un remake che proponeva una sola opzione grafica e quella hai e quella ti tieni che però appunto non andasse a tradire quelle che sono proprio le scelte state le scelte in passato del team artistico ora questa potete potreste pensare che è un po' una pippa che è un po' una pippa mentale fine a se stessa che è abbastanza vero però tenete conto che noi non siamo chiamati a giudicare Shadow of the Colossus perché quello è un titolo che è già stato giudicato apprezzato recensito ma il remake e quindi visto proprio che il team di sviluppo e Sony hanno spinto molto su questo aspetto delle performance allora scusate sono concentratissima in più ho anche la videocamera davanti se però rallentassi un po' perché vedi che al mio cavallo gli pesa il culo dai dai Agro su ok su 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 un po' di spirito e quindi appunto è una piccolezza che però insomma mi mi lascia un po' mi lascia un po' dispiaciuta ecco mettiamola così allora adesso cerchiamo di camminare fino al fondo della coda mettiamo la spada non dobbiamo cadere non dobbiamo cadere non dobbiamo no concentrazione 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 no guarda ah no ma siamo arrivati era quella la scaglia questa no sì dai che viene giù dai che viene giù che fatica questa parte mi fa sentire sempre un po' in colpa a essere sincera perché proprio il modo in cui si accasciano in modo sofferente sta proprio male e quindi insomma questi sono un po' i pro e i contro ci troviamo comunque di fronte a un ottimo a un ottimo remake lo studio di Bluepoint non sono proprio degli sprovveduti anzi sono degli diciamo degli esperti restauratori perché sono quelli che sono occupati anche dei dei vari porting di Uncharted e God of War e quindi niente con questo con questa fine io vi lascio vi consiglio ovviamente di andare a leggere la video recensione o guardare la video recensione di leggere la recensione o di guardare la video recensione se siete persone pigre non avete voglia di leggere che trovate qui sulle pagine di Multiplayer.it per dettagli un po' più approfonditi sia sulla versione PlayStation 4 che sulla remastered PlayStation 3 trovate il videoconfronto e rimanete in nostra compagnia perché nei prossimi giorni usciranno anche degli approfondimenti un approfondimento scritto dedicato al simbolismo di Shadow of the Colossus e un approfondimento video se tutto va bene dedicato perché lo sto ancora scrivendo dedicato agli eventi narrati all'interno di Shadow of the Colossus e come questi si riagganciano a quelli di Ico e The Last Guardian quindi io penso di avere finito ci vediamo alla prossima ragazzi a presto ciao a presto